Allora direi che possiamo iniziare, buongiorno, benvenuti. Come prima cosa, se la collega del 2SR vuole dire qualcosa, Nadia Carpi, chiederei di introdurre da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale i nostri lavori. Sì, lo porto in saluti dell'Ufficio Scolastico Regionale, che affianca sempre le interessanti attività proposte da il Toreto. Spero che il corso si sa di fare attività e spiancherò anche le buone amici di lavoro, il tutoraggio, quindi se avete preso il problema, se avete preso il tempo, quindi se avete preso il tempo, se avete preso il tempo, se avete preso il tempo, se avete preso il tempo e se avete preso il tempo. Buon lavoro. Grazie. Grazie. Io appunto introdurrei io stesso poi i lavori di questo che è il secondo corso dedicato alla didattica attiva della show attraverso le TIC. Chi vi parla è Enrico Manera di Istoreto, però in questo caso sto in qualche modo anche parlando a nome del gruppo di lavoro sulle TIC, ovvero sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che si trova da ormai due anni, insomma, a Istoreto, e che ha in qualche modo elaborato la seconda edizione di questo corso. rispetto al corso dell'edizione precedente, chi lo avesse già seguito ha notato che ci sono delle innovazioni, per cui prima di presentare poi gli interventi di oggi, che saranno rispettivamente di Maria Teresa Milano, che è qua a fianco, e poi di Flavio Febbraro, direi proprio due cose di introduzione, insomma, direi delle considerazioni di ordine generale. Ora, anche l'anno scorso il corso era di didattica attiva, di informazione e coprogettazione. L'anno scorso era semplicemente la Shoah e la didattica digitale. A partire dall'esperienza dell'anno precedente, per la seconda edizione abbiamo deciso di dettagliare un po' meglio gli aspetti sia del tema che gli aspetti poi metodologici e operativi. In modo particolare, vedete appunto anche dal titolo alle mie spalle, del fatto che si chiama Salvatori e salvati nel Piemonte in guerra, abbiamo scelto di affrontare il macro tema della Shoah con un fuoco molto più stretto. In modo particolare si è scelto di affrontare la questione dei giusti e della salvazione, che è già una scelta molto precisa, perché vuol dire non tematizzare soltanto gli aspetti dello sterminio dal punto di vista dell'esito e della morte. Da altri punti di vista è chiaro che l'altro passaggio è non soltanto la Shoah come macro tema negli suoi aspetti più generali, ma all'interno del contesto locale. Qua si parla del Piemonte in guerra, per cui il tipo di passaggio che abbiamo voluto proporre è quello di provare a sperimentare quello che è sempre difficile fare, tenere insieme la grande storia, quella con la S maiuscola, e la storia del contesto locale, e la storia dei luoghi che magari ancora spesso noi, i nostri studenti, frequentiamo e che però non riescono a essere collegati nel frame mentale. Quindi si tratta poi di, come vedrete, noi abbiamo scelto questo libro di cui l'autrice, appunto, è Maria Teresa Milano e il primo intervento sarà suo e ci parlerà di questo libro, di come è nato, del progetto di ricerca che c'è dietro. È un libro che raccoglie delle storie di salvazione e quindi il passaggio che poi intendiamo proporre è quello di alcune storie attraverso cui raggiungere la grande storia. Anche da questo punto di vista incomincio già a dire una cosa che magari dopo verrà fuori in modo più chiaro. Questa è una raccolta di memorie più che un libro di storia e che implica già dei problemi, no? Nella misura in cui le storie che sono state raccolte sono evidentemente frutto di un lavoro della memoria che sarà poi compito del laboratorio storiografico che c'è dopo, insomma, portare a galla. E quindi quello che stiamo proponendo in questo caso è di fare un laboratorio storiografico a partire da questa narrazione, a partire appunto dalle storie raccolte nel libro, con la particolarità di ambientare questo laboratorio storico, che è una cosa che probabilmente molti di voi hanno sempre fatto, però in ambiente digitale. Anche da questo punto di vista l'anno scorso l'impegno era quello di usare la didattica digitale. Anche a fronte delle questioni emerse l'anno scorso, quest'anno si è scelto di dare un taglio molto più da un lato tecnico rispetto all'utilizzazione di alcuni prodotti digitali che sono i webware, ovvero i software liberi in rete. Questo per dire che digitale vuol dire tutto, vuol dire niente, vuol dire usare in modo passivo, se volete, la rete piuttosto che la limo o quant'altro, mentre quello che vorremmo fare noi è proporre strumenti operativi di didattica attiva che gli studenti possano usare veramente per essere produttori di opere. Ecco, da questo punto di vista il corso prevede a questo punto diversi incontri e sarà poi compito del collega Febbraro illustrare i vari step, insomma i prossimi quattro incontri, ed è una formazione, chiamiamolo così, di tipo anche tecnico, un laboratorio in cui a ognuno dei corsisti verrà chiesto di impegnarsi per impratichirsi in padroniesi di strumenti che potrà poi utilizzare nel modo che riterrà più opportuno appunto con il lavoro delle proprie classi. Tenete conto che questo ci permette anche di rivolgerci a un pubblico di docenti di vari ordini e grado, intendo dire che tra di voi ci sono docenti nella primaria, della secondaria di primo grado e di secondo grado, no? Quindi tutta una serie di questioni sono specifiche ai tipi di lavori che ognuno di noi fa, ognuno di voi fa in classe. Quindi una prima cosa, una prima avvertenza di tipo metodologico che mi permetterei di mettere avanti. Le grandi questioni storiografiche di fondo io direi che di sicuro verranno fuori magari oggi nella prima parte del dibattito e sono contento che ci sia anche l'autrice per affrontare questo tema. Nei successivi incontri pensiamo di lasciarle da parte per poi riprenderle magari nel feedback finale. Una volta che, voglio dire, dopo la giornata di oggi di questo tema, i prossimi incontri saranno dedicati veramente all'uso del laboratorio. Ora, direi che ho già parlato fin troppo, però ancora due informazioni. Non solo appunto l'ufficio scolastico regionale è un partner di questo progetto, ma la cosa interessante è che ci sono anche gli istituti della storia della resistenza della società contemporanea del Piemonte. Cioè questo corso ha una portata regionale. Il primo incontro è comune e i prossimi quattro incontri verranno replicati da ogni istituto. E parlo di Asti, Alessandria, Vercelli, Novara, Cuneo e spero di non starmi dimenticando niente perché come sempre fare gli elenchi a braccio diventa poi imbarazzante. Ovviamente, stavo dimenticandomi, ma era da qualche parte negli appunti, c'è anche la collaborazione dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza e come vedete stiamo riprendendo l'incontro grazie anche alla tecnologia della NCR proprio per permettere a chi non è qua e agli altri istituti regionali appunto poi di poter vedere questa prima giornata. Questo per dirvi perché appunto io stesso ho un microfono, la seduta viene registrata, se qualcuno avesse delle domande vi chiediamo soltanto poi di venire qua, di parlare al microfono se no si rischia di perdere poi un audio e questo viene fuori dal quadro della registrazione. Insomma, direi che ho già parlato fin troppo, vi ringrazio per l'attenzione e introdurrei a questo punto Maria Teresa Milano a cui, insomma, il compito di illustrarci il libro e i motivi della ricerca. Grazie mille. Grazie mille. E' riusciata a segnare. Non c'è. Buongiorno. Questo poi magari lo tagliamo. Ok. Molto bene. Grazie. Buongiorno. Grazie innanzitutto a Enrico Manera, Flavio Febbraro. Si sente? Sì? Ok. Devo dire che sono anche un po' emozionata perché un progetto che si basa su un libro, intanto credo abbia un duplice valore in un momento in cui il libro sta davvero soffrendo tanto in Italia, c'è una brutta crisi, creare un progetto che parta da un libro, credo abbia proprio un valore aggiunto perché si dà valore anche al libro stesso, a questo in particolare ma al libro in generale. E mi sento anche un po' una responsabilità e poi vi dirò anche perché, perché questo libro ha degli errori. Ma poi ne parleremo e capiremo anche perché ha degli errori. L'immagine che vi ho messo qua per iniziare, se qualcuno è mai stato al centro studi Yad Vashem di Gerusalemme la riconoscerà, sono le fotografie di tutte queste persone. Negli anni successivi alla costituzione di Yad Vashem, avremo modo di parlarne dopo, si è fatto un importante processo di dare un volto e un nome alle vittime della Shoah perché quello che avevano fatto i nazisti, cioè di deumanizzare togliendo il nome e assegnare un numero a ogni persona doveva essere cancellato in questo modo, riparato in questo modo, ovvero cancellando quel numero e dando un volto e un nome. Questo è un elemento che tornerà spesso, non solo nel mio discorso oggi ma in tutto il lavoro che farete anche dopo. Quindi queste fotografie in realtà sono proprio il simbolo di ridare identità alle vittime prima e poi anche ai salvatori, cioè a coloro che hanno fatto sì che non ci fossero altre vittime ancora. Dato che il progetto parte dal libro, io vorrei innanzitutto dire come è stato costruito questo libro. Quindi cosa c'è dentro, come si è arrivati a questo e come lo potete utilizzare. Il libro contiene delle storie. Come ho fatto a recuperare queste storie? Anche questo, scusate il gioco di parole, è una lunga storia. Tutto è partito dal desiderio dell'editore Le Chateau di Aosta di salvare il faldone che c'è alla comunità ebraica di Torino e che contiene tutte le storie di salvataggio di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale che in comunità sono state depositate, ma ovviamente sono tutte in forma cartacea. Per cui, chiacchierando di questa cosa, si è detto sarebbe bene copiarle e metterle in un libro di modo che non succeda mai, che vadano perdute. E il presidente della comunità ebraica di Torino aggiunge, anche perché purtroppo abbiamo già perso tutto il faldone del 1955. In quel momento io non sapevo cosa fosse il faldone del 1955, purtroppo l'avrei scoperto molto presto. Quindi io ho cominciato a lavorare su tutte le storie che erano conservate, che sono conservate, in questo registro ad anelli, presso la comunità ebraica di Torino. C'era ogni tipo di storia possibile e immaginabile, nel senso che erano scritte a mano, in alcuni casi poco leggibili. La scheda chiedeva semplicemente nome del salvatore, nome del salvato, breve descrizione dei fatti. In alcuni casi abbiamo due pagine di testimonianza, in altri casi due righe. Quindi un materiale molto eterogeneo. E mi sono resa conto subito che sarebbe stato molto difficile da maneggiare. In mezzo a quei fogli non c'era per nulla, quasi nessuna delle schede relative alle storie dei salvatori che poi hanno ottenuto la medaglia di giusto. Della medaglia di giusto ne parleremo dopo. La prima fase ha previsto semplicemente la copiatura di tutte queste storie. Queste storie poi sono state integrate. Ho fatto ovviamente un lavoro di redazione e di integrazione perché in alcuni casi ho ritrovato degli articoli, in altri casi i protagonisti delle storie stesse hanno scritto la loro autobiografia, un diario, memoria, hanno rilasciato interviste. Ho cercato di recuperare tutto il materiale possibile su queste storie. Chiaramente, come potete immaginare, questo è il primo problema, come potevo recuperare tutto il materiale possibile. E in effetti, dopo che il libro era già stato stampato, ho trovato altre due storie che non avevo ritrovato prima. E stiamo parlando di due anni di lavoro. Mancavano, vi dicevo, quasi del tutto le storie dei cosiddetti giusti fra le nazioni piemontesi. Ma queste sono disponibili sul sito di Yad Vashem. Io qui vi ho messo l'indirizzo, mi rendo conto che copiare una cosa del genere è difficilissimo, ma l'ho messa così. Simbolicamente, basta andare sul sito di Yad Vashem, andare nel database dei giusti, e si fa la ricerca per nome. Possiamo comunque poi rendere disponibile anche il PowerPoint. Ah, sì, certo. Sì, 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 volentieri. Vi dicevo, la comunità ebraica possedeva anche un elenco di tutti, di tutte le storie di salvataggio, un file su Excel. e io mi sono resa conto praticamente subito che avevo un certo numero di storie, ma che i nomi dei salvatori erano decisamente di più, più del doppio. E mi è venuto un dubbio, ho detto, saranno stati mica in quel faldone che hanno perduto? Era esattamente così. Ma la storia fa strani scherzi, a volte anche molto positivi. Un giorno ero qui all'istituto, avevo appuntamento con Paolo Momigliano Levi, che ha lavorato molto all'istituto della Resistenza della Valle d'Aosta. Lui mi ha portato alcune notizie su alcune storie di salvataggio della Valle d'Aosta che aveva recuperato e, chiacchierando, ma proprio casualmente, gli dico, guarda che sfortuna, hanno perso il faldone che evidentemente conteneva la maggior parte delle storie. E lui mi dice, ma scusa, di che faldone stai parlando? Io dico, ma di tutte le storie raccolte nel 55. Ma mi dice, ma guarda che io ce l'ho a casa, perché l'avevo fotocopiato tutto. Ok, stavamo per andare in stampa, al che dico, allora se potessi farmi una copia di tutte queste storie, mi arriva a casa un bel pacco di storie, alto così. E questo cosa ha significato ricominciare tutto da capo? Perché? Perché in questo pacco di fogli che mi aveva mandato Paolo Momigliano Levi, che ringrazierò per sempre, c'erano storie che io avevo già recuperato in comunità, ma che erano state scritte, ad esempio, dai nipoti e non dai protagonisti della vicenda. Cosa fare a quel punto? Ho scelto arbitrariamente di prendere quelle più vecchie, cioè quelle che avevano compilato i protagonisti, perché più vicine al fatto. Quindi ho dovuto valutare tutti i doppioni, ho preso tutte le storie che mancavano, ma comunque qualcuna ancora manca. Non siamo più riusciti a recuperarle. Poi, proprio come nei migliori gialli, è venuto fuori che era stato compilato un altro elenco con altre storie recuperate negli anni Ottanta e questo è proprio sparito. A meno che qualcuno non esca e dica io ce l'ho a casa fotocopiato su quello. Ahimè, o l'originale, meglio ancora. Questo ce lo dobbiamo proprio scordare. Due parole su quelle testimonianze del 55. Perché era nata l'idea di raccogliere queste storie? Allora, tutto era nato dal fatto che il 17 aprile 55 per festeggiare il decennio della liberazione era stata fatta una cerimonia al Cine Malcione di Milano dove avevano consegnato una medaglia, una onorificenza a una serie di persone che si sapeva, si aveva la documentazione, avevano salvato gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra questi vi erano cinque piemontesi Gino Giuganino Lorenzo Spada entrambi erano già deceduti Monsignor Vincenzo Barale il senatore Domenico Coggiola oh scusate che è successo? Ok Emilio Germano Ida Granzotto Enrico Malvano scusate Ida Granzotto vedova Battistella Enrico Malvano era l'allora Presidente della Comunità Ebraica di Torino decide di fare la stessa cosa a Torino anzi gli viene in mente questa idea perché non raccogliamo tutte le storie di salvataggio e dirama un comunicato in cui si chiede a tutti gli iscritti alla Comunità Ebraica cioè i membri della Comunità Ebraica sono iscritti alla Comunità in cui si chiede di inviare le loro storie cioè si chiede se qualcuno di voi è stato salvato durante la Seconda Guerra Mondiale invia alla Comunità Ebraica di Torino la propria storia il problema qual è? che alcuni hanno trovato salvezza in Piemonte ma senza essere piemontesi per cui se dopo la guerra si sono trasferiti non hanno mai ricevuto questa comunicazione e io ho un esempio io sono di Fossano una persona che io conosco da quando sono nata perché poi succede sempre così non mi ha mai raccontato questa storia nel momento che ha saputo che io stavo facendo questo libro mi dice ah ma lo sapevi che anche mio nonno ha nascosto degli ebrei in casa dico no perché se non me lo racconti e però guarda non lo so non mi ricordo so che si chiamavano Servi ed erano di Livorno siamo andati a trovarli per molti anni dopo la fine della guerra ma io non ho la più palida idea poi ci siamo persi di vista come questa chissà quante altre storie ci sono al contrario ebrei piemontesi che sono stati salvati altrove in questo caso le storie non rientrano in questo libro perché qui ci siamo occupati solo delle storie che si sono svolte in Piemonte e Valle d'Aosta dimentico sempre la Valle d'Aosta in Piemonte e Valle d'Aosta capite bene che c'è un problema di di documentazione ma per tantissimi motivi un po' perché è andata perduta un po' perché come potete immaginare chi compiva un'azione di salvataggio di certo non si premurava di lasciare traccia di quello che stava facendo e poi molto spesso io ho intervistato moltissime persone al di là della risposta che per me è sempre spiazzante quando si dice a un salvatore ma tu sei stato un eroe normalmente queste persone si schermiscono e dicono ma no io ho fatto quello che era giusto e questa questa sicurezza di quello che è giusto che ci spiazza molto è uno dei punti su cui si può comunque lavorare con i ragazzi io comincio ogni tanto a lanciare alcuni punti su cui si può riflettere si può ragionare e poi proprio per questa timidezza che oserei dire forse anche un po' piemontese lo dico da piemontese di dire ma no ma no ma lascia perdere ma cosa vuoi che sia il problema è che molto si è perso quindi è difficile ritrovare la documentazione molto spesso è difficile ricostruire nel dettaglio la vicenda e poi vedremo anche perché e molto spesso la conoscenza di una storia dipende molto dalla volontà del salvato io qui vi ho messo un'immagine perché probabilmente molti di voi conoscono Tullio Levi che è il primo alla vostra sinistra è stato presidente della comunità ebraica di Torino lui si è adoperato moltissimo per il riconoscimento della famiglia Antoniono che salvò il papà la mamma la nonna anziana Tullio era molto piccolo tant'è che a un certo punto la nonna non stava bene la lasciarono nel paese a casa di questi signori e lasciarono per tenere le compagnie a questo bambino ancora piccolino mamma e papà di Tullio invece furono nascosti in un luogo più sicuro molto dipende dicevo da quanto il salvato ma non lo sto dicendo assolutamente per dare un giudizio l'altro giorno leggevo un'intervista a Gioele Dix sapete tutti benissimo chi è in realtà lui si chiama Davido Ottolenghi i suoi genitori credo i suoi nonni sicuramente sono stati salvati durante la seconda guerra mondiale e lui dice quando l'ho scoperto mi è venuto in mente di cercare quelle persone e poi mi sono detto ma no ma perché i miei genitori hanno fatto molto del bene hanno ricevuto del bene hanno fatto del bene il bene è una cosa che gira e la storia rimane chiusa lì quindi voglio dire si inseriscono anche queste dinamiche un signore di Fossano che ha ricostruito tutta la storia di sua nonna si è messo in contatto con i salvati e loro gli hanno detto noi non vogliamo più sentirne parlare quindi vedete che ci sono moltissimi atteggiamenti diversi che però determinano anche poi la nostra possibilità di ricostruire le storie stesse e qui vi ho messo una frase dello storico Piernoracca a me piace moltissimo perché entriamo proprio nel cuore del problema direi cioè la la capacità di distinguere nostra tra la documentazione di questo tipo quindi il ricordo la memoria la testimonianza e l'analisi l'analisi critica l'analisi storica perché vi dicevo che questo libro ha molti errori molti insomma ha degli errori adesso non abbattiamoci troppo beh intanto perché come potete immaginare un lavoro di redazione che dura due anni comporta per forza degli errori e questo è il primo e alcuni errori possono essere miei e poi perché troverete degli errori storici nel senso che la persona che sta raccontando la storia può avere un ricordo falsato di quello che è successo ma non perché desidera averlo non perché ci sta mentendo ma perché proprio ha un ricordo di quella storia che è mediato dal modo in cui lui stesso lei stessa l'ha vissuto non so se ricordate la il paragone che fa Marc Bloch tra lo storico e il giudice allora cosa fa il giudice raccoglie tutte le prove perché non si può dire allora se non sono attendibili questi ricordi allora lasciamoli perdere no li raccogliamo tutti li mettiamo tutti insieme e poi li valutiamo lavoro che non è stato fatto in questo libro e questo ci tengo a dirlo immediatamente perché essendo che questo libro era nato semplicemente per salvare quelle testimonianze solo cartacee si limita a riportare quanto c'è dentro il faldone integrandolo insomma tutto quello che vi ho detto prima non c'è l'analisi critica del materiale c'è il materiale quindi questo per voi è una risorsa diciamo così su cui si inizia a lavorare Bloch faceva l'esempio dell'incidente dice se c'è un incidente in mezzo a una strada e chiedete a tre persone di raccontarvi come è andato l'incidente queste tre persone vi daranno verosimilmente tre versioni diverse un po' perché magari erano in tre punti diversi quindi hanno davvero visto tre cose diverse un po' perché ciascuno di loro avrà prestato attenzione a elementi diversi se voi avete due testimonianze uguali e una diversa in un punto non fidatevi delle due uguali non è detto che siano quelle giuste e diceva che le testimonianze non si contano ma si ponderano quindi questo è il lavoro successivo che va fatto esattamente su queste memorie noi dobbiamo tenere conto di tanti punti di vista della situazione proprio di vita sociale il background culturale dei protagonisti di queste vicende l'età che avevano allora chi ha vissuto questa storia da bambino ha avuto un'esperienza molto diversa da chi era adolescente da chi era adulto da una mamma incinta da una che partorisce nella clandestinità da un anziano ciascuno di loro ha avuto un vissuto diverso e dunque anche la rielaborazione di quel vissuto sarà ovviamente diversa vi dicevo che per le schede invece dei giusti fra le nazioni piemontesi sono andata dritta alla fonte cioè in realtà su ciascuna di queste figure è stato scritto molto ma lo spazio del libro non lo prevedeva pensate ad esempio a Carlo Angela che è il medico che ha nascosto falsi pazienti nella sua clinica moltissimi a lui sono stati dedicati degli iscritti su di lui è stato scritto moltissimo io ho scelto di utilizzare nel libro le schede depositate presso Yad Vashem allora apriamo una piccola parentesi che cos'è Yad Vashem io qui vi ho messo una fotografia dall'alto che vi dà l'idea di quanto è grande questo centro vedete in alto a destra c'è la medaglia che viene consegnata e sotto messo un albero perché per ogni giusto viene piantato un albero nel 53 il Parlamento israeliano istituisce il centro studi Yad Vashem e affida a questo il compito di conferire l'onorificenza a chi salvò la vita di uno o più ebrei a rischio della propria il primo maggio 1962 Presidente Golda Meir vengono piantati i primi undici alberi in onore di altrettanti giusti fra le nazioni pensate che in quell'occasione non piantarono un albero per Oscar Schindler che divenne poi invece il giusto forse più importante più insomma più conosciuto non più importante più conosciuto grazie anche al film perché uno dei salvati si rifiutò di accettare questa cosa pensate veramente a quanto sono poi complesse le storie uno dei salvati disse no scusate è vero lui mi ha salvato però lui stava con i nazisti e quindi blocca la cosa chiaramente poi si sbloccherà Oscar Schindler chiaramente riconosciuto e c'è un albero in sua memoria in quell'occasione Golda Meir dice i giusti fra le nazioni sono gocce di amore in un oceano di veleno da quel momento le ricerche sull'identità sul volto sul nome dei salvatori sono state incessanti tanto per darvi alcuni numeri allora già nel 2005 fu pubblicata un'enciclopedia in dieci volumi con le storie raccolte fino a quel momento sono migliaia nel 2009 è stato giustamente creato questo database online di cui vi parlavo prima e che oltretutto è molto semplice da consultare i giusti riconosciuti oggi sono 25.271 in Italia 610 e si va dall'1 in Turchia ai 6.454 in Polonia 454 i numeri sono relativi a cosa anche al numero della popolazione ebraica in quel paese in quel momento è chiaro non possiamo prenderli in senso assoluto pensiamo ad esempio al caso della Danimarca dove su circa 800 ebrei ne salvarono più di 600 traghettandoli durante la notte in Svezia con delle barchette quelli che cioè tutta la popolazione tutta la popolazione danese si mobilitò per il salvataggio degli ebrei e attenzione ancora dopo quelle poche centinaia 300 e qualcosa che non furono salvati ma per tanti motivi finirono a Theresienstadt a 70 chilometri da Praga il famoso ghetto modello quello degli artisti dei pittori dei musicisti e a un certo punto anche prominenten ghetto cioè il ghetto di quelli che avevano una condizione migliore rispetto agli altri internati tra cui gli ebrei danesi i cosiddetti privilegiati anche dopo l'internamento a Theresienstadt il governo danese continua a preoccuparsi dei suoi cittadini e dunque richiede costantemente che la dirigenza di Theresienstadt invii un resoconto sulle condizioni di vita dei suoi cittadini sarà proprio il governo danese a chiedere l'ispezione della Croce Rossa non so se ricordate quella famosa ispezione della Croce Rossa internazionale con Maurice Roussel dalla Svizzera il quale poi purtroppo alla fine vi ricordate adesso non mi allargo troppo su Theresien anche se è il mio il mio campo loro sistemano le vie sistemano un asilo nido posticcio mettono un grande pavillon in cui fanno suonare la musica jazz la entartete music quella proibita fanno concerti vestono bene i bambini mettono in mano i bambini delle grosse fette di pane e Maurice Roussel alla fine scrive tutto sommato a Theresien non si vive male quella che poteva essere quella che poteva essere un colpo inferto ai nazisti diventa la loro carta vincente e di qui nascerà poi anche il film il Führer regala una città agli ebrei chiudo la parentesi sui danesi la prima commissione giudicatrice dovette stabilire ovviamente dei criteri perché potete immaginare quante storie venivano fuori e soprattutto c'erano due pareri contrastanti uno Mosche Landau il quale poi presiederà anche il processo Zeichmann nel 61 che diceva signori le storie di salvataggio non possono essere migliaia noi prenderemo in considerazione quelle veramente esemplari l'altro della commissione Mosche Beschki che aveva invece vissuto purtroppo l'esperienza del campo della deportazione disse no ogni storia va presa in considerazione ma bisognava comunque stabilire dei criteri come gestire queste migliaia e migliaia di storie e furono quindi stabiliti questi criteri perché una storia possa avere la diciamo così l'onorificenza di Ad Vashem deve avere queste caratteristiche l'aiuto è stato dato agli ebrei trovati in pericolo con l'inizio dello sterminio quindi diciamo dal 42 il salvatore era cosciente del rischio che correva e sapeva che una volta scoperto sarebbe stato preso dalle autorità tedesche al salvatore non è stato garantito promesso nessun compenso economico questo è un punto molto importante non devono esserci stati dei pagamenti l'operazione di salvataggio è consistita in un intervento attivo e non casuale anche qui abbiamo molte storie di interventi casuali e sono importanti perché uno un testimone potrebbe dire guarda che vicino al mio appartamento abitano ebrei e non lo dice anzi li avverte e loro si mettono in fuga è vero li salverà qualcun altro ma se lui non avesse fatto questo neanche la fuga non sarebbe stata possibile 5 la testimonianza deve essere deposta dai salvati da testimoni oculari o da documenti ufficiali quindi immaginate che oltre a quelle 25.271 storie a cui è stata data l'onorificenza da Yad Vashem ci sono altre migliaia e migliaia di storie di salvataggio che non hanno questi criteri e dunque che non sono state prese in considerazione per l'assegnazione della medaglia questo libro contiene tutte le storie come avrete già potuto capire solo in due casi non ho proprio potuto mettere nulla perché purtroppo c'era scritto a macchina sapete quelle macchine da scrivere sono stato tenuto nascosto tre mesi dal signor tal dei tali e poi questo testimone ha scritto due righe poi ha firmato a mano e non si capisce assolutamente chi sia quindi davvero complicato ma qui è stato messo tutto perché perché lo scopo non è e credo dal punto di vista didattico questo sia importante non è assegnare una medaglia questo è il compito di Yad Vashem il compito credo principale di questo libro è di dare un'immagine di quella rete di bene che si autocostituì in contraposizione alla rete del male che era invece gestita da un governo centrale nazista fascista cosa succede che in modo assolutamente spontaneo la popolazione si organizza per prestare aiuto una cosa interessante è ad esempio distinguere tra le modalità diverse di aiuto allora i contadini i montanari avevano molto spesso delle piccole baite o i recovery per gli animali e potevano mettere a disposizione questo magari in un bosco in un luogo molto lontano dai paesi in alta montagna in campagna c'era più cibo che non in città quindi molto spesso nelle grandi cascine e anche qui ho recuperato una storia una settimana prima di andare in stampa di un signore che mi ha affermata mi ha detto so che stai lavorando su questo guarda che i miei nonni avevano una grande cascina e hanno nascosto diversi ebrei per 9-10 mesi i medici abbiamo l'esempio di Carlo Angela ma qui ed è tra le storie che abbiamo scelto c'era un medico di Mondovì la famosa clinica famosa insomma per chi abita in provincia di Cuneo la clinica di Mondovì questo medico nascose un ebreo per un certo periodo di tempo lui non dice quanto ha nascosto solo lui ne ha nascosti altri non possiamo saperlo in questo momento magari voi lo scoprirete ci sono ufficiali dell'esercito ci sono militari ci sono altri prelati prima parlavamo di Monsignor Barale ci sono i conventi vedete che c'è proprio una quantità di situazioni anche molto diverse tra loro dove ciascuno fa la propria parte non dimentichiamo ad esempio noi abbiamo segnalato una di queste storie quella di Silvio Riguard cioè di chi compilava carte di identità false senza le quali era impossibile ad esempio passare in Svizzera abbiamo veramente tante storie diverse che possiamo anche raggruppare per zone geografiche o appunto per modalità per tipologia di aiuto quando usiamo questo materiale in classe una cosa a cui tengo tantissimo è sempre prima di parlare di Shoah parliamo di vita perché mi è capitato molte volte che insomma ho avuto l'impressione che i ragazzi vedano un po' questa società ebraica che sbuca dal nulla nel 1938 a un certo punto ci sono le leggi razziali e poi e poi la seconda guerra mondiale la deportazione e la Shoah vi dico solo una cosa molto breve l'anno scorso accompagnavo Classi a vedere una mostra molto interessante al museo della ceramica Mondovì che aveva ospitato una selezione di lumi del museo dei lumi di Casale Monferrato di candelabri a nove bracci per la festa di Hanukkah e quindi c'erano candelabri anche molto candelabri artistici anche molto particolari uno di Mimo Paladino fatto a forma di torre molto alto colore della terracotta con dei graffi delle scritte e io mi sono resa conto che io dicevo sempre secondo voi che storia c'è dietro questo candelabro cosa aveva in testa l'artista i bambini della scuola elementare dicevano secondo me stava pensando alla torre di Babele perché loro hanno questo immaginario fine elementari prima media sembra un faro e in effetti aveva proprio l'aspetto di un faro dalla terza media in su io ve lo assicuro ragazzi e adulti sembra il cammino di Auschwitz allora vi dico sono passati 700 ragazzi quindi ho anche un campione abbastanza ampio per poter fare delle riflessioni mi sono chiesta ma perché la prima immagine che ti viene in mente è quella della Shoah allora dal mio punto di vista che lavoro sulla didattica della Shoah la prima domanda che mi faccio è gliene parliamo troppo e con questo voglio essere un po' provocatoria poi al limite ne parliamo dopo perché gli gettiamo addosso di continuo queste immagini allora certo non possiamo non parlarne certo non possiamo non gettare addosso queste immagini forse dobbiamo aggiungere un pezzetto il pezzetto che c'è prima e allora io faccio molto rapidamente se ho tempo perché non ho l'idea ok la prima domanda è ragazzi ma c'erano gli ebrei qua prima della seconda guerra mondiale risposta sì perché se è vero che ci sono state sono stati passaggi presenze sporadiche qualcuno dice addirittura già nel quarto secolo dopo Cristo ricordiamo che la presenza ebraica in Italia è la più antica a Roma si parla di secondo secolo avanti Cristo possiamo parlare di comunità vera e propria insediamento stabile e duraturo a partire dal 1400 questo significa che arrivati alla seconda guerra mondiale sono sei secoli allora sei secoli di presenza sul territorio credo che sia già un pezzo di storia molto importante su cui si può ragionare allora perché ricordiamo questa storia perché la studiamo perché questa società ebraica si è relazionata con la nostra società per sei secoli di fila e quei modelli relazionali ci servono oggi magari anche per comprendere i nostri modelli relazionali relazionali con le cosiddette società altre termine poco felice che non sono più quella ebraica ma che sono altre società con cui noi ci troviamo ogni giorno a convivere ora questa non è una novità perché queste difficoltà queste relazioni da costruire magari anche difficili da gestire sono state protagoniste della nostra storia per diversi secoli e non certo dall'altro ieri allora nel 1400 io qui vi ho messo una foto del prestito ebraico un'immagine perché sostanzialmente fin dagli inizi gli ebrei in Piemonte si occupavano soprattutto di tenere banchi di prestito e questa attività è particolarmente importante nel 1500 e 1600 ma insieme a questi prestatori di denaro che insomma quasi sicuramente erano arrivati dalla Francia quindi l'origine degli ebrei piemontesi è francese della Provenza perché giunsero in Piemonte dopo le tre cacciate lungo il 1300 di cui l'ultima la più importante 1394 si insediarono in Piemonte insieme all'attività di prestatori loro si erano portati i banchieri se così li vogliamo chiamare si erano portati dietro degli importanti studiosi rabbini e studiosi questo è interessante perché questo significa che in Piemonte c'è sempre stata anche una parte tanto di studiosi già nel 1400 il famoso rabbino Maharik che stava a Savigliano riceveva studenti da tutta l'Italia ma anche dalla Germania e dalla Savoia tutti venivano a studiare con Maharik quindi lo vediamo poi anche nei secoli successivi una storia ebraica molto importante molto viva con un centro studi veramente interessante qui vedete l'interno della sinagoga di Mondovì una sinagoga di Ghetto il Ghetto anche questo è un elemento importante dal punto di vista storico mentre ricordate tutti avete mai provato a chiedere ai ragazzi che cos'è il Ghetto sanno sempre rispondere dipende un po' da quel che uno ha fatto nel programma di storia perché anche questo di solito lo identificano con la seconda guerra mondiale allora si torna indietro e si dice 1516 Ghetto di Venezia 1555 bolla papale istituzione dei ghetti in Piemonte arriva tardi 1679 a Torino anni venti del settecento nelle città più piccole io dico sempre a Cuneo dicono che siamo Bugianen e il secolo arriva con due secoli il Ghetto arriva con due secoli di ritardo la caratteristica del Piemonte è che mentre nel resto d'Italia c'erano i ghetti nelle grandi città quindi con grande affollamento in Piemonte ci sono piccoli ghetti in tantissime città quindi gli ebrei molto ben distribuiti su tutto il territorio con Napoleone un primo assaggio di quell'emancipazione che arriverà invece 40 anni dopo gli ebrei più abbienti si trasferiscono fuori dal Ghetto ma l'emancipazione arriva qui nel 1848 vi ho messo la sinagoga di Torino che fu costruita dopo aver abbandonato il progetto della Mole lo sapete tutti perché a un certo punto questa Mole continuava a crescere gli ebrei non avevano più soldi non ce la facevano proprio più la città è venuta a loro incontro ha preso l'edificio della Mole e loro hanno costruito questa sinagoga che è molto appariscente tra l'altro la Roma Kodesh cioè l'armaggio dove vengono tenuti i rotoli della Torah che dovrebbe essere sempre verso est è nella direzione sbagliata e io dico questi sono anche i miracoli dell'emancipazione cioè il desiderio di sentirsi è una battuta ovviamente di sentirsi uguali agli altri perfettamente integrati gli ebrei piemontesi pensate che Primo Levi diceva che senza gli ebrei il Piemonte avrebbe avuto una storia diversa perché la storia dell'ebraismo piemontese è davvero molto particolare ed è poi da qui che partono le più importanti riforme ma proprio anche sull'ordinamento stesso delle comunità ebraiche italiane cioè tutto quello che viene proposto a Torino confluirà poi nella legge Rattazzi e qui abbiamo Massimo D'Azeglio e Leglio Cantoni Leglio Cantoni un rabbino progressista rabbino capo di Torino che aveva anche abbracciato in parte con un po' di timidezza la riforma liturgica che arrivava dalla Germania una Germania molto colta che aveva vissuto l'illuminismo ebraico abbiamo quindi una storia ebraica molto molto importante e poi è chiaro che arriviamo al 1938 io qui in modo provocatorio ho messo la foto del duce col bambino vi ricordate l'amore del duce per i bambini un po' come tutti i dittatori perché coi ragazzi si può anche lavorare sulla propaganda quindi su quanto su quale peso abbia avuto la propaganda del regime nelle scuole nel momento in cui ad esempio viene reso obbligatorio alla radio perché quello era il mezzo per diffondere propaganda la musica i libri scolastici il libro ma anche i testi di narrativa vi ricordate Pinocchio in camicia nera o quelli in cui il duce moltiplica il pane i pesci anche le novelle per bambini vengono ovviamente devono obbedire alle leggi della propaganda ed ecco dopo le leggi razziali lo strappo perché quegli ebrei perfettamente completamente emancipati dalla metà dell'ottocento quegli ebrei che all'inizio del novecento hanno dei ruoli istituzionali importanti e un posto nella società e si sentono perfettamente integrati vivono lo strappo di vedersi traditi e feriti dai propri connazionali gli ebrei italiani si sentivano prima italiani e poi ebrei moltissimi erano assimilati molti laici come esattamente oggi la maggioranza degli ebrei italiani è costituita da laici una ferita profondissima la guerra 1940 tra l'altro nello stesso anno gli storici potranno dirvi molto di più il duce istituisce i campi di internamento civile che saranno poi circa 200 quindi un numero veramente spaventoso l'Italia avrà anche i campi di concentramento io ripeto sono di fossano c'era il campo a Borgo San Dalmazzo quindi a pochi chilometri da Cuneo che era sostanzialmente l'anticamera di Auschwitz non importa che Borgo fosse soltanto un campo di raccolta questa è un'altra cosa su cui si discute sempre con i ragazzi loro dicono io lo capisco perché poi uno cerca anche un po' di tirarsi su di morale brutto però insomma di darsi delle spiegazioni e dice vabbè però insomma da Borgo sono partiti in 349 e non c'erano le camere a gas e io rispondo meno male e poi cosa vuol dire sono partiti solo 349 e allora mi ritorno al dubbio perché noi abbiamo sempre nell'orecchie 6 milioni perdiamo di vista il fatto che anche se fosse partito uno solo era grave uguale cosa vuol dire solo 349 349 è un numero pazzesco e non importa che non c'erano le camere a gas di lì ci sono stati portati da Borgo sono andati a Drancy da Drancy ad Auschwitz qualcuno è tornato con l'armistizio cambia la situazione 8 settembre 43 molte delle storie che trovate qui raccontano della fuga degli ebrei da Saint-Martin-Vesuby quindi la residence forse vicino a Nizza da cui partono una notte la notte dell'armistizio 800 circa ebrei si mettono al seguito della quarta armata in rientro in Italia attraversano il colle Ciriegia il colle delle finestre arrivano nelle vallate qualcuno torna indietro qualcuno trova rifugio qualcuno finirà a Borgo nel campo qualcuno prende il treno per Torino insomma parliamo di circa 800 persone e qui vi ho messo questa foto della valle Gesso ma insomma così poteva essere una qualsiasi altra vallata che ho voluto intitolare la quotidianità del bene proprio per ritornare a quello che dicevamo prima le persone che hanno scelto di salvare gli ebrei sapevano quello che stavano facendo e quello che ci insegnano queste storie è la capacità di distinguere tra bene e male e il coraggio di scegliere il bene attenzione io non voglio fare discorsi da moralista non è questo il punto l'importanza di insegnare ai ragazzi ma anche ai bambini di distinguere tra male e bene la mette chiaramente in luce Mare Kedelman ricordate tutti Mare Kedelman in un libro bellissimo che si intitola C'era l'amore nel ghetto lui dice bisogna insegnare fin da bambini a saper riconoscere tra male e bene perché quando si è adulti allora sarà più semplice riconoscere e dunque fare certe scelte se non ci fossero state persone in grado di saper distinguere e di saper scegliere noi non potremmo raccontare tutte queste storie allora noi cosa possiamo fare nel momento in cui abbiamo in mano queste storie io propongo sempre questo di ribaltare quello che dichiariamo forse un po' per routine ogni 27 gennaio un anno succedono sempre delle cose strane poi ai primi di febbraio subito dopo il 27 gennaio che mi fanno dire ma che cosa stiamo facendo allora 27 gennaio di qualche anno fa telegiornali con tutti i ragazzi per strada perché non succeda mai più per non dimenticare tutti che gridano fanno gli striscioni due settimane dopo a Milano propongono delle corse in metropolitana per soli milanesi e tutti sono di nuovo lì a dire giusto giusto io sono d'accordo e allora dici scusa e due settimane fa di che cosa stavi parlando ma io non voglio mescolare i piani però voglio dire che cosa succede cioè che cosa facciamo il 27 gennaio c'era un bellissimo libro di un'autrice israeliana la rondine dell'anima dove disegnava una cassettiera con tanti cassettini e io spesso vi dico sinceramente che il 27 gennaio sempre l'impressione che apriamo un cassettino e lo richiudiamo il 28 con questo non voglio dire che si debba lavorare tutto l'anno su quello ma non è questo il punto ma bisognerebbe riuscire a trovare dei collegamenti per dare un senso a queste cose che sia la storia delle vittime o che sia la storia dei salvati e dei salvatori e allora per questo vi dicevo ribaltiamo la questione e non diciamo più qual è il popolo che ha permesso questo orrore proviamo a chiedere chi è stato in grado di produrre questo bene chiamiamolo così non chiediamo più ai ragazzi cos'è che non dovete fare l'avete mai visto l'onda il film l'onda allora questo film che poi tra l'altro è una storia vera dimostra come in realtà il meccanismo che si ripete si adatta a qualsiasi situazione per cui i ragazzi che dicono sono 15 anni che ci insegnate cos'è la Shoah e noi sappiamo benissimo che non dobbiamo più commettere un errore simile fanno la stessa cosa nel giro di una settimana diventano un gruppo di estremisti allora proviamo a ragionare all'opposto non diciamo cos'è che non devono fare ma proviamo a raccontare cosa possono fare e queste storie pur con i loro errori storici scusate il bisticcio con i loro errori storici con le loro inesattezze che non sono menzogne ma sono inesattezze ci possono dare un buon materiale su cui lavorare per provare a dare senso a tutto quello che cercate con grande merito e grande pazienza e se siete qui oggi vuol dire che lavorate tanto e lavorate bene perché muoversi di pomeriggio e dedicarsi a fare altre cose ancora vuol dire che lavorate tanto e lavorate bene e ci credete provare a dare un senso a tutto quello che si fa intorno a quel giorno perché in qualche modo diventi anche un insegnamento attivo nella vita dei ragazzi e basta perché così poi al limite due parole proprio su questo voglio dire me la Teresa Milano ha già introdotto quello che poi secondo me secondo noi è una questione con cui ci dobbiamo confrontare dal punto di vista didattico chiaramente ognuno di noi deve tenere conto di un effetto ridondanza e monumentalità che un certo approccio anche troppe volte retorico al giorno della memoria poi produce quando poi si affronta storicamente la questione per cui questo corso in qualche modo è nato anche dal gruppo di lavoro vi dicevo come tentativo di uscire dagli scacchi perché da un lato noi crediamo che occuparsi di questo tema sia fondamentale dal punto di vista storico dal punto di vista etico per tutto lo sviluppo di quelle che banalmente si chiamano competenze di cittadinanza ma c'è qualcosa di più grosso dietro le parole che poi riempiono i curricula scolastici insomma e quindi è chiaro che la posta in gioco è altissima quindi scartare di lato vi dicevo rispetto ai problemi posti dalla ridondanza della monumentalità senza rinunciare all'impegno etico che c'è dietro questo per cui poi l'altra mossa è quella di occuparsi della storia del Piemonte nel contesto occupandosi della storia di quello che Maria Teresa ha chiamato la macchina della salvezza che in qualche modo si oppone in modo spontaneo alla macchina dello sterminio facendo emergere alcuni comportamenti che vanno da forme di solidarietà elementare sul territorio e che fanno parte della storia delle comunità per arrivare fino alle reti clandestine o a esperienze di resistenza organizzata che sul territorio e sul territorio piemontese in particolare poi sono sempre frammiste Grazie Grazie